Il progetto numero 23, sempre l'assessore Fioroni, le ultime due interrogazioni. Do la parola al consigliere Fora. Buongiorno, buongiorno assessore Fioroni. Questa interrogazione ha tre premesse che ribadisco così, come dire, le evito anche tempo nella risposta. Premesso che il tessuto economico Umbro è fortemente in crisi a fragilità strutturali che non dipendono da questa giunta. Premesso che le fragilità sono evidentemente molto aumentate in questa fase storica dall'emergenza Covid, che non dipendono da questa giunta. Premesso anche che il tessuto economico regionale ha avuto delle fragilità enormi che necessariamente devono essere soddisfatte e sulle quali deve intervenire il Governo con misure che, per la verità, su molti fronti sta facendo, con i cosiddetti ristori. Noi siamo qui per capire quali sono le misure, anche piccole, anche parziali, anche limitate, su cui la Regione può intervenire. Quando abbiamo approvato in questo Consiglio regionale la riprogrammazione dei fondi strutturali, ci dicemmo che la Regione aspettava di programmare le misure concrete in virtù del capire quali fossero quelle compensative delle misure nazionali. Approccio più che giusto che abbiamo anche, mi pare, a quel momento approvato all'unanimità, proprio perché le fragilità legate al nostro tessuto economico, alle chiusure che si stanno realizzando, purtroppo in questo secondo lockdown, ai grandi cali di fatturato, di gran parte delle attività che sono state sospese, non possono oggettivamente essere sostenute da risorse regionali. Invece, con poche, perché non si tratterebbe, credo, di grandissime risorse, risorse regionali si possono sostenere quelle attività su cui i ristori nazionali non sono intervenuti e non stanno intervenendo. Alcune cose la Regione le ha fatte e do atto, per esempio, che sul settore agricolo e in alcuni comparti anche produttivi gestiti dall'assessore Fioroni sono stati pensati dei piccoli, diciamo, interventi di ristoro economico, soprattutto per tutte quelle attività a cui non guardiamo in evidenza e non accendiamo immediatamente fari, perché non sono le attività chiuse che godono quindi dei ristori nazionali, ma sono tutto l'indotto delle attività che, non essendo chiuse, di fatto non sono ancorate ai ristori nazionali, ma che in alcuni casi hanno dei cali di fatturato e di produzione ancora più evidenti delle attività che sono totalmente chiuse. Due o tre esempi per tutti, rispetto anche a delle tipicità territoriali umbre, che evidentemente sono meno all'attenzione del Governo nazionale, perché poi è ovvio che ogni Regione ha le sue tipicità. E tra le attività che non sono chiuse, ma che hanno nella nostra Regione sofferte, stanno soffrendo tantissimo la fase di lockdown, ci sono, per esempio, tutta la filiera delle produzioni artigianali laboratoriali. Penso, per esempio, alla produzione delle paste alimentari, alla produzione di cioccolato, a tutta la panificazione, alla produzione artigianale, che nella nostra Regione ha una bella e grande tradizione, che ha visto, di fatto, quasi annullarsi il fatturato, sebbene privo di ristori perché attività non chiuse. Quindi, alla luce anche delle risorse, che credo in parte la riprogrammazione abbia reso disponibili, e alla luce di quell'affermazione che a suo tempo noi sposammo fortemente, cioè di aspettare i ristori degli interventi nazionali per poi programmare gli interventi regionali a compensazione, l'interrogazione ha come oggetto la richiesta del capire se la Giunta ha in previsione degli urgenti provvedimenti economici volte a tutelare le piccole filiere economiche su cui non intervengono, non interviene il Governo e che non sono state oggetto di chiusura. Assessore Fioroni. C'è un tema di fondo iniziale da affrontare, ovvero le risorse che noi mettiamo in campo a supporto, per misure di supporto, sono risorse comunitarie. Che cosa vuol dire? Che proprio perché noi abbiamo effettuato già in passato una rimodellazione, non sono vasi comunicanti che possiamo spostare da una parte all'altra per mettere in campo misure di supporto e di tipologia diversa. Tanto per farci capire, quando noi dicevamo che con rispetto al Governo avremmo messo in campo delle misure che andavano a sostenere il tessuto produttivo, strumento finanziario, il restart, siamo andati appunto in alternativa rispetto a un orientamento del Governo che era quello di dire per il sistema delle garanzie è lo Stato tramite SACE che garantisce presso il Medio Credito Centrale. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto uno strumento che pensava di intervenire sulla liquidità, che abbiamo anche rifinanziato da poco proprio perché sappiamo che questo tema, con lo scorrimento delle gradatorie, ci consentiva di dare ristoro veloce a un numero più elevato di aziende. In questo momento, insieme all'assessore Agabiti, stiamo studiando delle nuove forme di intervento che utilizzano fondi FSE, che erano già oggetto di quella sapiente riprogrammazione che era stata fatta a suo tempo, che stiamo valutando come poterli utilizzare proprio per andare incontro alle esigenze di categorie che non hanno avuto forme di ristoro da parte del Governo, tenendo conto che queste risorse teoricamente rientravano nell'accordo famoso provenzano, l'accordo della riprogrammazione dei fondi, che dovrebbero essere teoricamente disponibili dai primissimi mesi del prossimo anno. Quindi parliamo nel giro di gennaio, dovrebbero essere reperibili. Stiamo parlando di una quantità di risorse comunque importanti, stiamo parlando circa di, ci sta lavorando l'assessore Agabiti su questo piano, circa 8 milioni e mezzo di risorse, e quindi stiamo cercando di capire come utilizzare questi strumenti, tenendo conto che noi abbiamo anche sollecitato sul tema da lei evidenziato, anche i parlamentari Umbri, in modo particolare i parlamentari di centro-destra, per emendare il decreto ristoro, proprio cercando di prevedere delle forme compensative per quei settori che non sono stati colpiti direttamente da un danno, che è quello della chiusura, tutto quel commercio, che però necessita dei flussi legati alle scuole, al lavoro, al turismo, cioè la filiera turistica non è fatta solo di autobus e di strutture ricettive, ma è fatta, come diceva lei, come anche sollecitato da alcuni consiglieri, cito il consigliere Pastorelli, di una filiera di operatori che oggi hanno subito di fatto un danno indiretto, e per cui noi abbiamo chiesto ai nostri parlamentari di emendare su questo tema proprio il decreto ristoro, con particolare rilevanza ovviamente per quell'attività dei centri storici che sono quelli che maggiormente hanno subito il danno. Stiamo mettendo in campo delle misure di sostegno, però ripeto, siamo solo, ahimè, a una fase iniziale della crisi, sarà fondamentale capire cosa succederà in questo periodo di Natale, perché è ovvio che se noi mettiamo in campo strumenti in un periodo di crisi che è ottobre-novembre, che teoricamente è un periodo di bassa stagionalità per l'attività turistica e è un periodo anche non di punta per quanto è il commercio, sarà opportuno capire come utilizzarli maggiormente. Abbiamo anche 10 milioni di strumenti finanziari che possiamo mettere in campo con uno strumento potrebbe essere sempre uno strumento che preveda come in passato un finanziamento accompagnato a una componente di fondo perduto, perché comunque noi abbiamo in questa fase la necessità di favorire capitale circolante e intervenire sul versante del fondo perduto. Quindi siamo pronti a metterlo in campo, ma ora più che mai è importante di capire quale sarà il quadro del sistema degli aiuti per il Natale, perché è quello il momento della verità in cui si avrà certezza dell'entità del danno, ma soprattutto avremo certezza anche, a breve ci auguriamo, degli strumenti che il Governo intenderà mettere in campo, che vada a sé, sono gli strumenti più rilevanti. Ricordando sempre che siamo in un meccanismo non di vassi comunicanti, quindi possiamo recuperare strumenti previsti per le risorse finanziarie, tipo quelli sulle garanzie che sono stati poco utilizzati, per rimettere in un altro strumento di strumentazione finanziaria, ma non per altri utilizzi, perché per fare questo servirebbe quell'attività che è stata già fatta di riprogrammazione. C'è solo un problema di sfasamento temporale, perché dicevamo che alcuni siamo in grado, o saremo in grado di metterli in campo, e li metteremo in campo questo dicembre, altre saranno parte dell'accordo provenzale, su cui la Presidente Tesei ha chiesto ulteriori... Assessore, veramente concluda, se no non c'è tempo per gli altri consigli. ...nei primi mesi del prossimo anno, vuol dire fra gennaio, febbraio e non oltre. Consigliere Fora. Assessore, grazie della completezza e della lunga risposta. Io mi limito semplicemente a constatare che non si può sempre esclusivamente rivendicare e riallacciarsi agli interventi nazionali. Più che legittimo, perché io l'ho detto in premessa, e speravo che le premesse poi così avessero facilitato la risposta. Qui ci sono delle piccole nicchie di tipicità, di problemi che ogni Regione ha, evidentemente diversi dalle altre, su cui credo che un piccolo intervento specifico della nostra Regione può e deve essere messo in campo, non a gennaio, non a febbraio, anche con risorse, evidentemente, se non sono disponibili quelle legate alla programmazione europea, che sono vincolate con anche risorse interne che poi possono essere recuperate successivamente dalla programmazione, perché alcune di queste attività a Natale non ci arriveranno. A gennaio sono morte. Ora, le risorse pubbliche, spenderle per il fondo perduto, per quanto mi riguarda, spesso è un aberrazione, perché devono essere spesso leva che produce sviluppo e che costruisce investimenti. Ma in questo caso, per far sì che alcune attività rigenerino, bisogna evitare che muoiano. E il tempo è fondamentale. Grazie. Ultima question time, oggetto numero 24. Do la parola alla consigliera Fioroni. Grazie, Presidente. Credo che oggi sia di tutta evidenza quanto sia grande e alta l'attenzione di tutte le istituzioni di questa Assemblea legislativa della Giunta riguardo un altro aspetto dell'emergenza che stiamo vivendo, che non è solo quello sanitario, ma soprattutto, e in particolar modo in questo momento, perché poi sarà quello che lascerà le scie più imponenti, il problema degli effetti della pandemia sul tessuto socio-economico della regione, del Paese, ma anche a livello globale, europeo e mondiale. Mi è piaciuta molto la definizione della Presidente Teosei del rilancio di prospettiva, perché al di là di quelli che sono dei necessari, veloci ed immediati ristori, e quindi misure di interventi che debbono essere promossi a favore delle attività commerciali, produttive, e quindi tutte le attività economiche dei nostri territori, è necessario valutare tutto anche con una programmazione di medio e lungo periodo, perché così, per fare una metafora, un paragone a livello sanitario, così come si tratta una situazione di acuzie in emergenza-urgenza, poi è necessario pensare anche a una fase riabilitativa e post-acuzie. Quindi anche per le nostre attività, per le nostre imprese, per tutti i nostri lavoratori, è necessario guardare anche in prospettiva. Del resto, pur nella consapevolezza che è una situazione complicata, perché ci sono tante variabili in campo, lo scenario che ci rende i dati è veramente preoccupante. Il rallentamento dell'economia globale, causato dalla pandemia, aumenterà il debito delle economie, con un crollo della crescita del PIL e un aumento del deficit. L'Italia, che nel 2019 aveva un rapporto debito pubblico PIL del 134,8%, arriverà al 160%. Il Fondo Monetario Internazionale prevede per il 2020 un calo del PIL mondiale pari al 3%, un calo che nell'economia avanzata si attesterebbe in media attorno al 6%, con una stima per l'area euro di una contrazione del PIL pari al 7,7% nel 2020. E, come ho detto, chiaramente la crisi del Covid è veramente impattante anche nella nostra regione e sarà anche peggiore nel nostro Paese che nel resto d'Europa, perché sicuramente ha colpito, in una fase in cui l'economia già ne notava segnali di rallentamento. E, infatti, il Fondo Monetario Internazionale per il nostro Paese stima un calo del PIL nel 2020 pari al 9,1%. Ricordo che il calo per l'area euro previsto è del 7,7%, quindi comunque l'Italia avrà una contrazione maggiore. E le stime per la nostra regione attestano un calo del PIL, come si è già detto più volte, di circa l'11%. In questo scenario apocalittico, l'Italia è anche penultima in Europa per il livello di assorbimento dei fondi strutturali e degli investimenti europei, pari al 30,7%, a fronte di una media europea del 39,6%, come emerge dalla relazione della Corte dei Conti europea sull'esercizio finanziario 2019. Come ha già detto l'assessore Fioroni, non è che questa regione aspetta necessariamente le misure del Governo, però è pur vero che il Governo nazionale sta facendo ben poco per rilanciare la nostra economia nazionale e anche nell'ultima legge di bilancio gli interventi strategici di lungo periodo su crescita e competitività per quel famoso rilancio di prospettiva di cui parlava la Presidente Tesei appaiono molto deboli, come manca una prospettiva di intervento organico sul tema fiscale, ma soprattutto è necessario garantire la pronta attuazione delle misure e dei ristori, come diceva prima il Consigliere Fora, cercando di esortare la Regione a mettere in piedi queste misure che mi sembra ancora l'assessore Fioroni abbia detto sono già state fatte, ma ce ne saranno ancora in programma, evitando soprattutto dal punto di vista nazionale ritardi e complicazioni, intervenendo sul numero dei decreti attuativi legati al Covid non ancora adottati, che sono ben 196 su complessivi 304. Questo è un problema, è un problema grande per quegli interventi immediati e veloci di cui parlavamo. Il nostro bilancio regionale non consente ovviamente di porre rimedio alla mancanza del Governo centrale, ma occorre stimolare e sostenere le nostre imprese con scelte mirate e strategiche, anche nel solco del piano di transizione 4.0, ideato inizialmente come leva di competitività, ma che oggi può e deve istituire un elemento per garantire la continuità aziendale. Occorre quindi supportare i processi di trasferimento tecnologico e di trasformazione digitale delle imprese, perché in Italia solo il 18% delle piccole e medie imprese che costituiscono la quasi totalità delle nostre aziende investe oggi nel digitale. La pubblica amministrazione deve rappresentare un fattore di accelerazione delle iniziative imprenditoriali e concludo, Presidente, e delle risorse volte alla formazione e all'innovazione delle imprese. Per questo motivo interroghiamo questa Giunta per sapere quali misure di carattere economico e strategico intende adottare o abbia adottato per favorire la ripresa immagliata delle attività produttive non appena l'emergenza sanitaria lo consentirà e per supportare l'innovazione e la digitalizzazione al fine di accompagnare e guidare le imprese umbre nella transizione digitale verso un'economia circolare. Grazie. Assessore Fironi, prego. Allora, sì, il tema è rilevante nella misura in cui proprio prima ci trovavamo a ragionare sul fatto che servisse un cambio di paradigma è una prospettiva e oggi più che mai l'elemento che preoccupa che anche le aziende più strutturate più forti patrimonialmente che hanno intaccato la propria riserva di patrimonio magari possano trovarsi a non fare investimenti che avrebbero fatto in altre condizioni. Quindi, oltre a misure di supporto servono soprattutto misure di sostegno servano misure di supporto per gli investimenti in modo particolare per tutti quegli investimenti che si traducono in un sistema di modernizzazione del sistema produttivo di evoluzione che riguardino la ricerca ma che riguardino soprattutto la transizione digitale su cui il nostro Paese e con esso la nostra Regione hanno un fattore di arretratezza forte che riguarda sia il sistema delle competenze che delle strutture su questo annunciamo che entro questo mese dovrebbe uscire proprio un bando che prevede l'allocazione di 5 milioni di euro a supporto della formazione legata al digitale delle competenze una formazione che riguarderà i lavoratori che riguarderà la formazione continua faccio riferimento proprio a uno stimolo che abbiamo ricevuto anche prima perché oggi si richiede una formazione che non sia una tantum ma l'evoluzione delle competenze così veloce che le risorse soprattutto sul digitale vanno orientate sulla formazione continua 5 milioni sul digitale e poi i famosi fondi d'accordo provenzano nel prossimo all'inizio del prossimo anno ci sarà un progetto importante che stiamo studiando con cassa depositi e prestiti per attivare un sistema di leva più potente che non sia solo il meccanismo a fondo perduto che prevede praticamente uno strumento che consente di attivare un moltiplicatore anche sul versante del credito con un livello di istruttore molto più basso con la tradizionale forma di mandi pubblici attivando possibilità di accesso al credito ulteriore questo è uno strumento che consentirebbe un contributo in conti interesse perché consentirebbe di attivare il credito oltre al fondo perduto regionale con un valore medio sicuramente più basso è coerente con il sistema del temporary framework degli aiuti di Stato ma noi comunque dobbiamo intervenire anche con altri strumenti di finanza che abbiamo messo a disposizione che attiveremo nel prossimo anno intervenendo su patrimonializzazione e sostegno degli investimenti perché l'obiettivo è quello di attivare le leve su questa misura noi metteremo circa 10 milioni di euro a supporto degli investimenti probabilmente con altri 3 milioni di euro stiamo capendo se metterli tutti su una misura o se parlarli rifinanzieremo il bando Bridge to Digital che aveva dato grosso impulso a investimenti sul digitale quindi noi abbiamo previsto 13 milioni di euro a supporto degli investimenti quindi in innovazione abbiamo recuperato 800 mila euro anche dei precedenti bandi PIA non totalmente spesi quindi possiamo dire che nel giro di febbraio saranno attivi sul versante degli investimenti digitali e innovazioni circa 13 milioni 8 più 5 milioni di euro sul versante delle competenze digitali per un totale di 18 milioni e mezzo a supporto dell'innovazione del digitale Consigliere Sì grazie Presidente ma brevemente solo per ringraziare l'assessore per la risposta completa e anche per le previsioni e per la programmazione fatta su questi temi e su questi ambiti che sono essenziali per una reale ripartenza post-covid e credo che in queste tre ultime interrogazioni a cui ha risposto l'assessore sono importanti sono state importanti per dare un quadro su quelle che sono le prospettive di rilancio di questa regione grazie 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 grazie